Benvenuti o bentornati nel canale youtube di magnetismo. In questa puntata andremo a vedere come risolvere uno dei possibili problemi che possono uscire quando andiamo a stampare stampando con la stampante 3D Bambu Lab A1 Mini. Uno tra i vari problemi che possono esserci è il problema di estrusione, ossia il filamento che abbiamo inserito, questo bianco per intenderci, che per comodità andremo ad inserire in questo tubo in PETG, che sarà collegato all'AMS, che quindi farà da guida al nostro filamento. Quando la nostra stampante non riesce più a estrudere, ossia a far fuori uscire il filamento, significa che il filamento si è rotto all'interno di questo blocco qui. Quindi questo blocco è formato da tre parti principali. L'AMS, come potete vedere dal nome, il blocco del motore, che è quello che va proprio a spingere il filamento che arriva dall'AMS, e il nozzle, che è la parte che si va a scaldare e va a far affrontare il filamento. Quindi, come prima cosa, andiamo a vedere come aprire e smontare il nozzle per vedere se al suo interno vi è rimasto del filamento attaccato. Prima di tutto abbiamo bisogno di due cacciaviti. Uno piatto ed uno a testa esagonale. Dopo che abbiamo preso il cacciavite piatto e abbiamo spento la nostra Bambulab, che cosa andiamo a fare? Andiamo a muovere il nostro blocco composto dall'AMS, dal motore e dal nozzle, verso il centro dell'asse X. Poi, che cosa andiamo a fare? Con l'ausilio del cacciavite piatto, ci andiamo a mettere in questa posizione qui. Quindi, ci andiamo a portare all'interno di questo primo pezzo che andremo a smontare, il primo pezzo più esterno. Questo pezzo non è avvitato e si può smontare semplicemente facendo un po' di pressione senza romperlo. Quindi, facciamo un po' di delicata pressione, in questo modo. Quindi, io ho infilato il cacciavite e l'ho fatto ruotare in modo che si andasse a creare una piccola cavità. Potete vedere che questo pezzo viene via, si smonta facilmente, è fatto apposta. Infatti, se lo smontiamo, vediamo come rimuovere l'hotend, ossia questa parte qui che sarebbe il nostro nozzle. Quindi, come seconda cosa, che cosa andiamo a fare? Andiamo a rimuovere questa parte in plastica, che va a coprire l'hotend. Quindi, lo andiamo a rimuovere e vediamo che qui abbiamo una piccola chiusura che va a tenere fermo il nostro nozzle. Quindi, di nuovo, con l'ausilio del cacciavite piatto, ci andiamo a porre dietro il blocchetto e andiamo a fare un po' di leva. Non serve molta forza, quindi fate molta attenzione. E andiamo a aprire il nozzle. Andiamo ad aprire il vano che va a contenere il nozzle. A questo punto il nozzle si andrà a sganciare e noi lo possiamo sganciare senza troppa difficoltà. Adesso sono con una mano sola e quindi è un pochino più complicato. Come potete vedere, qui nel nozzle, all'interno dell'hotend, scusate, non c'è filamento. Il filamento si trova nel mio caso qui. Però nel mio caso la stampante non ha alcun tipo di problema e quindi va bene così. Se però voi trovaste del filamento qui, vi consiglierei di tirarlo fuori con delle pinze. Detto ciò, se vedete che il filamento non è presente, lo rimettete a posto molto semplicemente. Quando lo andate a rimettere a posto non vi potete sbagliare perché il nostro hotend non è simmetrico. Quindi non è uguale in tutte e quattro le direzioni. Dovete prendere la faccia completamente scavata e non questa più interna che ha questo profilo più piatto. Dovete prendere solo quella scavata e la rimettere al suo opposto. La parte scavata è quella che deve stare davanti. In questo video non la rimetterò a posto per farvi vedere al meglio come è fatta la stampante, quindi le parti più interne. Quindi dopo aver tolto il hotend e dopo aver capito che, dopo aver visto che non ci sono pezzi di filamento incastrati, andiamo a rimuovere l'AMS. Come facciamo a rimuovere l'AMS? C'è questa piccola parte qui che anche essa non è avvitata. Quindi per rimuoverla basta che andiamo a infilare il cacciavite piatto. Lo andiamo a infilare lentamente, molto lentamente, per evitare che si rompa. Ok, dopo che l'avete iniziato a infilare basta che iniziate a ruotare il cacciavite. In questo modo andate a creare uno spessore e la guarnizione si inizierà ad alzare lentamente senza il minimo sforzo. Dopo che avete tolto la guarnizione l'AMS sarà libero di muoversi. Quindi lo prendete dall'estremità superiore e lo andate a tirare semplicemente verso l'alto. Ok, nel mio caso c'è il filamento ma perché non c'è alcun... perché il filamento è integro e non è rotto. Quindi se però vedete che nel vostro caso c'è un pezzo di filamento e magari è quello che si è incastrato, anche qui vi consiglio di prendere delle cesoie o delle pinze e di andare a rimuoverlo. Poi se dopo che avete controllato l'AMS e vi risulta che non vi siano pezzi significa che i pezzi di filamento erano all'interno del hotend perché le due zone dove il filamento si può incastrare sono proprio l'AMS e l'hotend in quanto all'interno del motore i pezzi di filamento che si... se ci dovessero essere, tutti i pezzi di filamento che si trovano all'interno generalmente o vengono espulsi verso il basso, ossia verso l'hotend oppure non sono proprio arrivati al motore e quindi si trovano all'interno dell'AMS. Quindi spero che questo abbia risolto i vostri problemi. Io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!